Rieccoci qui su Attila Total War, qui in compagnia di Keen 111, Yunni e Raiko, i Vandali. Abbiamo qui una bella schermata buggata che non riesco a leggere niente. Penso sia un evento di fazione, non capisco. Vabbè, abbiamo appena razziato Trimontium e ci sono questi bellissimi lugi pronti a essere massacrati. E basta una, dai, se non scappano. Sicuro? Dai. Un secondo allora, che... Ricerco una tecnologia... Mettiamo... Cavalleria superiore. Ci sono dei sudditi che reclamano la tua attenzione. Dove vedo... Ah, sudditi. Cosa deve funzionare? Potremmo avere un dono al mio popolo. Ignoralo. Accetta il dono. Proviamo. Sì, si. Scari il mio fuoco. Proviamo. Devo dichiarargli guerra, perché non sono in guerra. Ne coi... Lugi, ne coi turigi che arrivano da lassù. Sì, sono pronti per azione. Per i giuditi. Scappano. Ti devo dire... Scappati. Peccato. Stiamo cercando di scendere giù dalla Grecia. E poi, non so, o raggiungere l'Italia, il sud, oppure Cartagine. Vediamo un po'. Direi che ci conviene. Anche se questa Cic-Zicus... Io quasi quasi... No. No. Pass. Decimo tubero. Fridze. Sì, perché ti è salito l'Imperium. Oh! Macedoni super. Yes. Dov'è razziare tu stavolta. Noi converrebbe. Sai perché? Perché non sto guadagnando niente. Ok. Io mi sposto le armate vicino e tu razzi, vai. Esplodi. Infatti, sto turno, alzerò le tasse. Tanto sono felici. E allora, in famiglia. In famiglia... Devo alzare la lealtà a sto tizio. Devo adottare un bambuino. Costa 50. Che ne dici che se instauriamo la base a Siracusa? Poi io vado giù a Cartagine e tu vai a nord. Dovremmo essere protetti. Centro mappa, in mezzo a un'isola. Povero Raiko. Iniziato la sua avventura all'estremo nord. Eh. Non pochi problemi. Adesso farei il bello assedio di Tessaloni. Mangiare un po' di soldini. Applicazioni impreviste. Maledizione. Dovremmo usare un'altra moglie. Perché hanno qualche esercito in giro. Manda altri. Peccato che non c'è l'opzione per fare arrendere i nemici come in Napolio. Ed Empire, mi pare. Era discreta. No, mandalo vicino, mandalo vicino. Sono due eserciti. Sì, dei marcelli. Sono qui. Adesso in questo turno ho il fuorissimo qua. Non i nemici. Eh no. Ci vogliono due turni. Ancora uno, immagino. Ah, quindi devo... Se riesci a rimanere lì è meglio. Certo, certo. Se hai bisogno di soldi ti li mando che stranamente, forse razziando la città, sto guadagnando un casino. Era la primavera del 406 d.C. Unni e vandali assediavano Tessalonica. inseguiti dagli eserciti di mezza Germania Austria. Allora, io mi sposto a sud di Tessalonica che è tanto ora la razzi. Sì. Andiamo verso Corinzio. Che è dei ribelli romani d'oriente. È un bug che non mi fa spostare le unità. Che mi dà il raggio ma mi fa X dappertutto. Mmm. Sono mobilitate, non sono in campamento. Sono mobilitate. Dici questa armata qua? Io non te la vedo nemmeno. Infatti, è scomparsa. È un palo? Eh, appunto. Ma forse perché sei nel raggio della città. Non lo so, però è sotto assedio. No, no, mi dai pompi d'azione. Prima mi potevo spostare. Bug, bug. Vabbè, aspetta un turno, dai, tanto ci do fuoco, accampati. ci spostiamo al prossimo tour. Io sto ricercando saccheggi sistematici perché voglio far crescere l'accampamento delle orde. Più soldi, più capacità di recluttamento, ma meno cibo e meno integrità. Ecco, adesso addirittura non mi fa fare premere nemmeno fine turno perché è diventato grigio. Ma no. Eh, che, non so cosa fare. Ricarichiamo un attimo. Ok, il bug ora dovrebbe essere risolto. Ermenegildo e il suo Ionagri. C'è questa spia ninja con mille e mille stelline. Questa spia ha forviato un esercito nemico. addio, 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 macedoni, addio. Questa fazia diventerà un tuo stato fantoccio. un cavo. Ready for more orders. Thirsty for battle. Thirsty for battle. Add them tower. Esplosa. La bomba atomica. è razziato abbastanza. Sì, sì. Sono tutti felici. Le tasse sono al massimo. Direi che va fin troppo bene. dai, sconfiggiamo i macedoni. Non c'è bisogno di fare le presentazioni. Siamo già in puntata. Facciamoli fuori. Noi più. Così non ci inseguono più. E abbiamo circondati. Siamo sotto Corinzio. Anzi, ci siamo rispostati sopra. Dopo averla razziata e stiamo fuggendo ricordiamo verso sud. La tecnica a Tenaglia abbiamo impedito a questi malefici. Tra l'altro adesso proviamo le nuove cose. Ah, nuova patch. Giusto. Nuova patch, nuova roba. Anche lì dai vincere e da sottolineare che gli assedi ora permettono di sfondare le porte con gli attacchi melee e non più solo con le torce e con gli arieti. Cosa che trovo un po' non cioè non trovo abbastanza non ha molto senso che con delle spadine tiri giù delle porte come sempre. Ma vedremo. vedremo in gioco. Ok, io sono pronto. Pronto? Direi di sì. Eh, intanto io devo arrivare. la verità schermaglia dove vanno avanti e indietro. Siamo i rinforzi e nel momento migliore e praticamente tu sei solo di supporto in questa battaglia. È tanto. Se rinforzi i miei amici è a fianco a me. direi di giù Ok, inizio a fargli male, tizzi. Poveri acci, circondati. Non sanno più cosa fare. Però quando era uscito ROM che l'IA si impazziva e stava ferma in mezzo allo schermo e faceva delle cose così. Senza averle cittati. Gli alberi incendiati ti ucciderò le truppe. Mi sa di sé. Adesso in foresta arrivano i nemici. Senza. Multiples! All right? All right! All right! Oggi i colori sono molto vividi. Non è che hanno rireso tutto irrealistico. Vedì che situazione che c'è. All right! All right! All right! All right! All right! Arrivo! Si sta bloccando l'audio di gioco. Non capisco come mai. Andi fuori! Il nemico sta pu... Il nostro generale! Proteggilo! un'epica ... ... ... ... Sì, Sì, Sì! Sì, sì, sì. 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 Sì.